In questo periodo, non chiedetemi il perché, ho iniziato a recuperare un sacco di anime Isekai, proprio quegli anime che ho sempre criticato e che più volte ho definito insipidi e banalotti. E indovinate un po'? Lo penso ancora. Però, 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 a scanso di equivoci, riconosco che ogni tanto capita di imbattersi in qualcosa di... sì, interessante. E Dammachi... non rientra in questa categoria. O meglio, non del tutto. In realtà, non lo so nemmeno io, perché ancora non riesco a capire se Dammachi mi sia piaciuto oppure no. L'ho guardato tutto, e questo è già qualcosa, perché se una storia riesce a mantenere alto il mio interesse, vuol dire che ha completato almeno la più basilare delle sue missioni, e cioè intrattenermi. Ma come sempre, facciamo un passo alla volta. Dammachi, alias è sbagliato cercare di rimorchiare ragazze in un dungeon, Dungeon è un anime di attualmente tre stagioni, tratto dall'omonima serie di light novel di Fujino Omori e realizzato dallo studio JC Staff. La storia, di per sé, non è nulla di complicato. Nella grande città di Orario c'è un posto strano e misterioso, chiamato semplicemente il Dungeon, una voragine sotterranea strutturata a livelli e piena di mostri man mano più forti. E gli avventurieri, intrepidi eroi di ogni genere, entrano nel Dungeon, desiderosi di trovare fama, gloria e tesori preziosi. Ogni avventuriero, per freggiarsi di questo titolo, deve affiliarsi a una famiglia divina, cioè a un gruppo riconosciuto di guerrieri al servizio di una precisa divinità, e il protagonista, Belcranel, appartiene alla famiglia della dea Estia, una dea minore presa in giro da tutti gli altri. Ma un po' alla volta, grazie al coraggio, alla dedizione e alla forza di volontà, Bel riuscirà a diventare sempre più forte e a ridare lustro alla famiglia della povera, ma, tra parentesi, insopportabile, dea Estia. Ovviamente questa è l'impalcatura di base, poi ogni stagione mette a fuoco alcune sottotrame un po' più elaborate, niente di che, certo, ma a modo loro discretamente interessanti. Innanzitutto occorre precisare che Dammachi non è un Isekai puro di quelli in stile Sword Art Online. Per il semplice fatto che manca, almeno per adesso, il tassello dello scambio dei mondi, ossia il passaggio di un individuo normale in un mondo di pura fantasia. Infatti l'anime parte già nella città di orario, che ai nostri occhi risulta né più né meno che l'unico mondo presente, tuttavia le meccaniche della narrazione sono al 100% quelle tipiche dell'Isekai moderno, e questo è l'ennesimo dettaglio che mi porta a definire l'Isekai non come un genere, ma piuttosto come un setting. Gli avventurieri che si riuniscono in parti a seconda dei loro ruoli e delle loro classi, l'esperienza dovuta all'uccisione dei mostri, la categorizzazione della forza in base ai livelli, il crafting, l'inventario, gli oggetti rilasciati, il dungeon strutturato a fasi con tanto di boss qua e là, insomma, tutto è palesemente ispirato a un mondo virtuale in stile videogioco o gioco da tavola. Infatti, non mi stupirei affatto se alla fine dell'anime Bell si rivelasse l'alter ego digitale o immaginario di un giocatore normalissimo, e quest'idea non mi è venuta solo per l'ambientazione, palesemente derivativa dal mondo dei videogames fantasy, ma anche perché Bell, il nostro protagonista, possiede tutta una serie di caratteristiche che nel mondo reale sono desideri molto comuni tra i ragazzi giovani. Per esempio, lui inizia la sua avventura da debole, ma con l'allenamento e con la perseveranza scopre di avere un potere particolare nascosto dentro di lui, e chi di noi da ragazzino non ha sognato di essere un po' speciale sotto sotto, di avere un qualche tipo di talento unico? Ancora, Bell e carismatico, attrae a sé molti altri personaggi, e addirittura cambia il modo di pensare di parecchi di questi, detta in un altro modo è popolare, altro sogno di tanti ragazzi. Infine, piace a un'infinità di ragazze, a partire dalla dea Estia, e qui non c'è molto da dire, piacere all'altro sesso è un classico tra i desideri giovanili. Però, nonostante Bell faccia strage di fanciulle, non è assolutamente il classico stereotipo del maschio alfa, grande, grosso e spaccone. È un ragazzo esile, longilineo, molto gentile, rispettoso e altruista, e questa penso che sia la sfumatura più azzeccata dell'anime, una sorta di inversione delle dinamiche dominanti nell'ambito della mascolinità, perché sì, stiamo parlando di un anime principalmente indirizzato a un pubblico maschile. Ecco, alla luce di tutto ciò, l'idea che Bell possa essere l'alter ego di un ragazzo timido, insicuro e ansioso come tanti, non è più così stupida e così campata in aria, ed è il motivo per cui, ai miei occhi, Dammachi rimane un Isekai fatto e finito, nel senso più classico. In secondo luogo, un'altra cosa che mi è piaciuta è la caratterizzazione degli dèi. Nel mondo di Dammachi, gli dèi sono presenti fisicamente sul piano degli uomini, solo che a causa di un antico trattato, non possono né entrare nel dungeon, anche se qualcuno lo fa, né interferire direttamente nelle questioni tra i membri delle famiglie, anche se qualcuno lo fa. Quindi, in poche parole, sono tutti dei burattinai che tirano le fila, alcuni in modo onesto e leale, come Estia, altri invece in modo subdulo e malizioso, come Apollo o come Hermes, personaggi ambigui che sembrano sempre avere qualcosa da nascondere, tipo un doppio fine. Ma in realtà, tutti gli dèi presentati, inclusi quelli positivi, hanno sia difetti che pregi, difetti e pregi che vengono estremamente dilatati proprio perché loro sono dèi, e tutto ciò che li riguarda è divino, quindi è straneo la comprensione dei comuni mortali. Estia è troppo appiccicosa, Hermes è troppo incomprensibile, Ganesha è troppo stupido, tutti sono troppo di qualcosa, perché sono dei. Ma se questi tratti possono effettivamente far sembrare tutta la storia intrigante e degna di nota, ecco che subito spuntano fuori elementi incredibilmente scontati e piatti, a controbilanciare il tutto. Ok, il protagonista affascinante che piace alle donne, va bene, ma qui siamo a livelli incredibili. In tutto orario non c'è una ragazza che sia normale, nella media, sono tutte bellissime, fortissime, fisicatissime, mezze nude, e soprattutto, innamorate perse di Belle. Indubbiamente questa scelta stilistica funziona perché riesce a unire il fanservice, quello un po' sexy, alla costruzione di gag comiche e buffe tra i personaggi di sesso femminile, che litigano tra di loro per conquistare il ragazzo di turno, nel nostro caso Belle. Ma onestamente io non ho mai trovato divertente questo genere di comicità, anzi, la reputo abbastanza sterile e ridondante, visto che viene infilata a forza dentro praticamente ogni episodio almeno tre o quattro volte. Magari a qualcuno piace, magari a qualcuno fa effettivamente ridere, e non c'è nulla di male, ma a me alla lunga stufa, anche perché, davvero, sono sempre le solite scenette usate e abusate. E poi quella che parte come una storia di crescita e di scoperta, con Belle e compagni che pian piano scendono fino ai livelli più bassi e più oscuri del dungeon, ecco che deve per forza trasformarsi in una storia profonda e riflessiva, con mostri parlanti in tutto e per tutto simili a persone, con un'anima e con una coscienza. E quindi via con il solito discorso, anche i mostri hanno diritto di vivere, di essere lasciati in pace, di non essere uccisi e bla bla bla. Oggigiorno ogni anime di questo tipo deve andare a parare lì, sulla differenza tra bestia e uomo, e sulla filosofia tra mostri e esseri umani. Ma come si fa a prendere sul serio queste cose, quando fino a un attimo prima era tutto un continuo zoom sui seni palesemente fuori scala di certi personaggi, e sulle scenette tragicomiche degli dèi? È impossibile. È per questo che non ho ancora capito se mi piace o no da maci, perché certe cose funzionano, e stranamente bene anche, non lo nego, ma certe altre non hanno proprio senso, non si armonizzano con quella che è la natura dell'opera, natura che l'opera stessa ci ha mostrato, puntata dopo puntata. Comunque, tutto sommato, credo che guarderò anche la prossima stagione, se e quando uscirà, anche solo per scoprire se la mia idea circa il videogioco e l'alter ego digitale è corretta o è solo una scemenza. Ma adesso direi che tocca a voi. Avete visto da maci? Vi è piaciuto o lo avete trovato noioso? Fatemelo sapere con un commento qui sotto, che magari ne possiamo discutere insieme. Io vi ringrazio di cuore se siete arrivati fin qui, statemi bene mi raccomando, e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Grazie a tutti.